cari amici scusatemi ma oggi avrei voluto farvi sentire questo audio meraviglioso in cui lilin ci racconta che nel 1990 faceva il relatore a scuola a 10 anni avrei voluto farvelo sentire vi passo il link in descrizione però siccome c'è una musica di sottofondo il video mi è stato demonetizzato quindi questa è la seconda riedizione dice delle boiate incredibili e niente adesso mi collego all'audio originale del mio video ok ah che bello essere moldavi ma spacciarsi per russi e relatori a dieci anni comunque dai anche io nel 1990 già la sapevo abbastanza lunga di aviazione iniziavo interessarmi di storia e fra l'altro scrissi un tema sulla guerra del golfo avevo 12 anni nel 1990 ovviamente non mi hanno mai assunto come relatore però la maestra mi diede un ottimo a quel tema me lo ricordo bene ora cari amici e care amiche chiuso il siparietto comico come sapete il mio canale non si rivolge solo alle persone che hanno le idee chiare è il buon senso di fare sempre analisi del testo a quello che viene detto a prescindere ma anche a quelli che non le hanno le idee chiare e come si dice no tutti possiamo imparare sempre cose nuove specialmente quando televisioni e stampa italiana non trattano certi argomenti neanche alla lontana ora se avete seguito le vicende di questi giorni c'è un'indagine in corso da parte delle fbi che sta svelando un bel po di altarini su come grossi capitali russi siano stati indirizzati di qua e di là per manipolare l'opinione pubblica europea e americana sia per quanto riguarda il supporto all'ucraina sia per le elezioni presidenziali in corso e su questo ci torneremo fra poco ma come dire nell'era del dell'era digitale in cui la cyber guerriglia viaggia anche con la manipolazione dell'informazione cosa c'è di peggio di un blogger filo russo che ti si ritorce contro infatti questo blogger ha iniziato a sparlare dicendo tutto ciò che sta accadendo ora è un tradimento i traditori sono seduti al cremlino così ha parlato yegor kusenko un blogger z con oltre 300.000 iscritti quindi mica noccioline ha pubblicato diversi video messaggi sul suo canale telegram dove ha parlato duramente del cremlino e dell'attuale governo russo nonché indirettamente di putin dicendo se dieci anni fa un vecchio non avesse combinato un guaio e si fosse comportato onestamente oggi non ci troveremo in questa pessima situazione e non saremo a morire o imprigionati letteralmente ha detto così nel suo messaggio ha aggiunto che tutto ciò che sta accadendo ora è un tradimento i traditori sono seduti al cremlino tutti ha detto che le autorità russe stanno rimuovendo i personaggi scomodi mettendoli in prigione e afferma che i traditori hanno preso il controllo del paese e non ha paura di dirlo perché sono in tanti a pensarla così e non possono mettere tutti in prigione ovviamente in seguito il suo team ha cancellato tutte queste registrazioni ma non è l'unico caso in questa intervista sempre tramite un blogger russo un soldato racconta della sua esperienza essendo tornato per una licenza dal fronte a causa di problemi di salute vi passo il link di entrambi questo video se vi interessa guardarli e avete un po di dimestichezza con l'inglese insomma sintetizzo questo soldato è tornato a casa a causa di problemi alla spina dorsale e alla testa ha ricevuto danni da concussione racconta di non aver ricevuto ancora un singolo assegno per i suoi mesi di servizio che la sua famiglia è piena di debiti e non riesce ad andare avanti dice molto chiaramente che non c'è spazio per il patriottismo quando mandi un soldato per mesi al fronte senza nessun avvicendamento senza assistenza medica viveri senza la garanzia che i soldi per cui si è arruolato arrivino almeno a casa con due bambini da mantenere e il corpo segnato per sempre da questi traumi ha grandi preoccupazioni sul suo futuro fa un discorso molto lucido e pragmatico tipico da un soldato quindi sono due video molto diversi che esprimono concetti diversi però in questo caso nel caso di questo soldato non è un blogger cioè non fa discorsi generalisti ora vi ho proposto questi due video proprio per dimostrarvi cosa ne pensano i russi come sempre in questo caso proprio i blogger russi quindi i filorussi per eccellenza altro che no poracci nostrani ora è chiaro che la diffusione di questi video sui social rappresenta un grosso problema no per la narrazione russa e del governo russo quindi cito fra l'altro un articolo apparso ieri sul sud sul sito per gli studi sulla guerra del istituto uguale ha parlato di una repressione dura nei confronti dei zeta blogger che hanno criticato apertamente il governo per essere stati troppo franchi e duri sui fallimenti e i disastri militari russi allo stesso tempo però il cremlino ha promosso una campagna per supportare i blogger più malleabili garantendogli premi di solidarietà ho fatto le virgolette con le dita non potete vedermi comunque sì solidarietà se questi blogger dimostrano coraggio e dovere professionale nella loro posizione civica udite udite della difesa della libertà di parola magnifico in sostanza quello che è successo è che il cremlino ha deciso di non procedere legalmente nei confronti dei blogger critici ma di premiare invece quelli che pongono come si pongono come allineati a non risaltare troppo le responsabilità del governo nel fallimento della guerra per restare poi sul tema della propaganda e dei magheggi operati dalla russia nell'informazione europea e statunitense cari amici come ho detto in questi due giorni mi sono letto per esempio il primo documento rilasciato dal ministero della giustizia americano a cura delle fbi in cui sono emersi gli scandali che hanno coinvolto russian today e i famosi youtubers americani sono molto bene che siete interessati almeno quanto me di sapere se guarda caso non sia mai anche in italia esista anche la minima possibilità che qualche giornalista uomo politico o youtuber abbia preso premi di solidarietà da parte di mosca senza volerlo e diciamo così insomma per me e tutti i miei colleghi qui su youtube che ci facciamo un mazzo così per fare ricerche scrivere studiare e proporvi dei contenuti giusti sulla questione capirete che è veramente triste e brutto che qualcuno prenda mille volte tanto in termini soldoni proponendogli fuffa niente di fatto così ho cercato per tutto il documento che se vi interessa leggerlo ve lo passo in descrizione e sono andato alla ricerca delle 2800 persone fra siti web giornali e giornalisti blogger youtubers coinvolti in questa vicenda ve lo dico subito non ci sono nomi purtroppo non ancora spero però che le indagini portino alla luce tutti quanti gli altarini come si dice quando la neve si scioglie no ma ecco comunque ho trovato alcuni riferimenti interessanti anche per noi in italia il primo riferimento è che nel piano dell'operazione di propaganda russa pare ci sia stato un grosso movimento per falsificare siti web una vera e propria fabbrica viene detto nel testo che sostituiva siti giornalistici e istituzionali con altrettanti siti falsi e la diffusione sistematica per esempio delle finestrelle dei pop up che si aprono che propongono notizie mirate per esempio su facebook e su altre piattaforme social che proponevano appunto queste tematiche dedicate la diffusione principalmente di certi argomenti se parliamo per esempio dell'america si ma anche in europa fra l'altro era gli argomenti principali erano di parlare della povertà crescente del rischio di inflazione della crescita dei rischi per la crescita economica dei rischi per la perdita di lavoro per i bianchi a causa dell'immigrazione dei troppi privilegi per le persone di colore e delle minoranze in generale e poi promuovere continue menzogne su una parte dello schieramento politico non gradito qui stiamo parlando dei democratici in america puoi sostenere che ci sono crimini che aumentano a causa degli ucraini immigrati però la cosa interessante è che queste tematiche proposte non coinvolgono solo il conflitto in ucraina e le elezioni presidenziali ma anche c'è una grossa parte che coinvolge anche la narrazione del conflitto a gaza né più nemmeno quindi andiamo a pescare i riferimenti all'italia in questo trafiletto viene detto che queste due compagnie struttura e sda sono state identificate come gli attori chiave della campagna responsabili della creazione di siti web falsi che impersonificano organizzazioni governative e media legittimi in europa principalmente germania francia italia ucraina e regno unito e per aver promosso la campagna filo russa sui social media c'è il caso poi del francese le monde questa pagina molto ben imitata in effetti è solo la punta dell'iceberg di una vasta operazione di influenza russa che è in corso da oltre un anno gli agenti che hanno creato e fatto circolare questa falsa pagina del ministero francese per l'europa e gli affari esteri sono anche responsabili di innumerevoli imitazioni di articoli sui media che imitano perfettamente il layout del le monde e di altri giornali come la parisienne e 20 minutes così come la maggior parte dei principali media tedeschi simili falsi sono stati visti anche in ucraina italia e regno unito anche in quest'altro pezzo poi si parla dell'italia e dice la rete russa ha preso di mira germania e lettonia con narrazioni su imminenti difficoltà derivanti dalle sanzioni che hanno preso di mira le forniture energetiche russe in italia e francia la rete ha preso di mira facebook con post che chiedevano la fine delle spedizioni di armi all'ucraina la tempistica e le narrazioni dei post poi concidevano con le decisioni politiche prese dalle pagine dei paesi presi di mira riguardano infatti proprio la guerra in ucraina quindi se su facebook avete visto qualche post che chiedeva di non mandare più armi all'ucraina sappiamo sapete da dove arrivava fondamentalmente oltre a questo questi attacchi hanno poi coinvolto diversi giornalisti di testate internazionali con articoli apparentemente firmati da giornalisti famosi ma contesti appositamente modificati se applichiamo il filtro giornalisti infatti viene fuori un po di roba anche questo trafiletto i documenti sda rivelano inoltre che monitorava e raccoglieva ampiamente informazioni su un gran numero di organizzazioni mediatiche e influencer sui social media un documento rilevato un elenco di oltre 2800 persone su varie piattaforme social come twitter facebook e telegram che coprono 81 paesi sda ha identificato come influencer tra cui conduttori televisivi radiofonici politici blogger giornalisti uomini d'affari professori analisti di think tank veterani altri professori e comici quando si fa riferimento ai politici per esempio l'elenco spesso menziona a quale stato degli stati uniti appartiene e a quale partito politico appartiene e la posizione che ricoprono al congresso se parliamo invece di influencer con sede negli stati uniti rappresentavano circa il 21 per cento degli account monitorati da sda negli stati uniti significa che il 79 per cento è in europa di questi influencer in un altro elenco oltre 1900 anti influencer da 52 paesi venivano monitorati da sda perché ritenevano che questi anti influencer proponevano argomenti contrari agli obiettivi russi insomma ecco bene ma non benissimo questo lo dico anche ai miei colleghi in ascolto quelli più famosi fate attenzione perché come si dice il nemico ci ascolta ora andiamo avanti perché insomma tutto questo è già abbastanza deprimente il direttore della cia william bars ha messo in guardia l'occidente da non lasciarsi intimidire da minacce nucleari russe stereotipate l'agenzia per la sicurezza americana ha da tempo identificato come parte di uno sforzo del cremlino quello di promuovere l'autodeterrenza nucleare con l'occidente e influenzare i momenti chiave nei dibattiti politici occidentali sul sostegno all'ucraina bars ha dichiarato il 7 settembre che il presidente russo vladimir putin continuerà a lanciare minacce periodiche di confronto diretto con l'occidente ma che queste minacce non devono intimidire l'occidente la cia in passato nel 2022 aveva valutato la possibilità che le forze russe utilizzassero delle armi tattiche nucleari in ucraina ma questa eventualità poi è svanita nel momento in cui hanno capito che queste minacce da un punto di vista diplomatico si verificavano tutte le volte che c'era un convegno che stabiliva la quantità di aiuti per l'ucraina insomma questa retorica era probabilmente più parte di un'operazione di informazione di routine progettata per scoraggiare l'assistenza all'ucraina che un indicatore vero e proprio della prontezza russa a usare armi nucleare nucleari il cremlino ha ripetutamente invocato minacce appena velate da uno scontro nucleare fra russia occidente durante i momenti chiave delle discussioni politiche occidentali su un'ulteriore assistenza militare all'ucraina questo è avvenuto a partire dall'autunno 2022 in concomitanza praticamente con la riacquisizione dei territori da parte ucraina e questo come si dice conferma quello che già sapevamo ma come dire sentirselo dire dal capo della cia fa un certo effetto andiamo avanti siamo quasi in dirittura di arrivo per oggi ma vi propongo un paio di curiosità tecniche questo è il drone ucraino soprannominato vampire vampiro e posso anche capire perché è un grosso esacottero quindi con sei motori capace di sollevare almeno 10 chili credo correggetemi se sbaglio come potete vedere può portare fino a 4 bombette calabre e quindi ecco nei vari video che non vi posso mostrare e di cui non posso posso astento parlare quello che si vede succedere sempre questo che si vede questo drone lanciare più più di questi ordigni fino a 4 possiamo vedere che poi in genere ne basta una di quelle ma gli operatori dronici sono molto scrupolosi ecco poi notizia di ieri la brigata asov del secondo battaglione meccanizzato è riuscita a essere bandiera su un edificio diroccato nella zona ovest di new york al fronte nella zona più a est del fronte proprio qui buon segno che un'altra area della città potrebbe essere liberata nelle prossime ore almeno penso che potremmo vederla rappresentata anche sulla mappa poi notizia di oggi una comunicazione da parte del capo delle forze armate ucraine sirski a proposito del pilota ucraino di f16 caduto durante l'intercetto dei missili da crociera russi ha dichiarato che i risultati delle indagini saranno pubblicati a breve quello che sappiamo adesso è che il pilota aveva appena intercettato due missili cruis e si stava dirigendo verso il terzo quando le comunicazioni si sono improvvisamente interrotte e poco dopo è precipitato al momento le teorie parlano di un guasto meccanico un errore del pilota o la perdita di conoscenza o un caso di fuoco amico da parte dei sistemi di difesa di terra al momento inutile dirlo non ci sono prove o elementi per poter sostenere una tesi piuttosto di un'altra quindi aspetteremo sviluppi per restare poi sempre in tema di piloti ucraini questo breve video è preso dal cockpit di un pilota ucraino e del suo mig 29 durante una missione notturna per intercettare droni russi faccio due piccole osservazioni stiamo parlando di un mig 29a la prima serie è in dotazione alle forze aeree ucraine ed è un aereo degli anni 80 ok il pilota non indossa nessun visore almeno per quello che si vede non ha gli occhialini per la visione notturna e quindi si quindi vola si dice in gerco tecnico in modo strumentale ok questo volo strumentale lo si fa guardando appunto gli strumenti l'orizzonte artificiale l'anemometro il variometro in modo proprio come come un'astronave nello spazio tu vedi a stento quello che c'è fuori quasi niente fra l'altro è interessante notare che l'ucraina ha uno scarsissimo inquinamento luminoso ci sono pochissime città illuminate vuoi perché le infrastrutture elettriche sono state distrutte vuoi perché sono oscurate intere aria a causa della guerra quindi ecco per dirla da pilota perché un pochino di esperienza ce l'ho anch'io volare in queste condizioni è veramente veramente impegnativo credetemi i lanci poi di missili che fa a bruciapelo contro questi droni si parla insomma esplodono molto nelle vicinanze si parla di lanci nell'ordine del chilometro chilometro e mezzo vengono svolti da quello che vedo con missili russi r60 r73 ed è pericoloso infatti si vedono i detriti esplodere nelle vicinanze fa piuttosto impressione insomma per gli standard nato a cui siamo abituati dalle immagini delle giornali e siamo abituati a vedere i piloti occidentali con questi sofisticati visori gli elmetti che hanno i visori notturni integrati insomma immaginarsi un pilota ucraino con un casco semplicissimo di quelli che compri alla conan e volare in modo strumentale nel frattempo abbattere droni russi fa veramente specie credetemi fare una missione del genere di giorno già non è uno scherzo ma farla di notte con un mig 29a insomma bisogna avere dei grandi attributi cubici come le suica le famose angurie quadrate giapponesi e per concludere restando sempre sempre sul tema delle palle eccone una anzi uno un pallone ecco bellissima immagine e anche il trafiletto in cui viene viene detto il piano d'azione di ciccio kim per conquistare le girelle motta e con questo body shaming alla faccia della dittatura chiudo il video di oggi come sempre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale qui sotto trovate tutti i pulsantini di youtube per aiutarmi a portare avanti questo progetto è un grosso abbraccio alla prossima